In questa media abbiamo i bassi, abbiamo tutti i suoni acuti dei piatti e in mezzo posso infilare le percussioni con i loro suoni mediosi e io riesco a suonare tutto insieme rendendo tutto quanto molto distinguibile e importante. Eseguire un ostinato come quelli che ho suonato prima, senza avere la possibilità di sentire poi i comici francesi sopra, è brutto. Grazie per la visione! Grazie!